A vostra completa disposizione, ascoltiamo in proposito delle emergenze buche a Roma un commento di Giacomo Carioti. Le strade di Roma sono piene di insidie, dalle buche alle rotaie dei tram, alla disastrata segnaletica sia orizzontale che verticale che spesso disorienta e confonde. Non vogliamo qui infierire su coloro ai quali spetta il compito che lo riconosciamo, è molto gravoso e problematico, di una puntuale manutenzione. Ma è nostro dovere non rimanere inerti di fronte a notizie come quella di alcuni giorni fa, di tre morti in incidenti stradali causati esclusivamente dalle buche sull'asfalto. Ed è nostro dovere rinnovare il richiamo alle autorità affinché la vigilanza e il pronto intervento rappresentino il costante impegno di chi ha una delega o una competenza in questa materia. Ma siamo sicuri purtroppo che questo da solo non basterà, allora è necessario che tutti collaborino alla soluzione di questo problema. Perciò invitiamo gli ascoltatori del nostro telegiornale affinché ci segnalino immediatamente tutte le situazioni di pericolo comunque determinate nella pubblica viabilità. Dalle buche alle segnaletiche mancanti, confuse o errate, agli attraversamenti impossibili per mancanza o patologico sbiadimento delle strisce pedonali. Da parte nostra ne daremo subito notizia, così nessuno potrà più dire non lo sapevo e verificheremo i provvedimenti adottati e in quanto tempo. Telefonate alla nostra redazione, pronto cronaca è a vostra disposizione. E siamo a Gioidi, giorno dell'Immacolata Concezione.